La convocazione per lunedì 27 è arrivata, ma non è quella istituzionale, quella che doveva tenersi il 10 maggio scorso su iniziativa della Regione, che aveva così dato seguito alle richieste dei sindacati di mettere mano alla situazione della Magneti Marelli di Sulmona, di capire cioè quale dovrà essere il suo destino e quello dei 480 lavoratori, considerando che è l'unico stabilimento del gruppo per il quale non sono previsti investimenti e nuove commesse. Lunedì, al contrario, più che una riunione di speranza sarà un incontro amaro, perché è quello previsto dalla procedura nel quale l'azienda ha convocato i sindacati per formalizzare la cassa integrazione, due settimane per il momento che a partire dal 10 giugno metteranno a riposo forzato tutte le maestranze a causa dell'improvviso calo della produzione da Sevel. La preoccupazione però non è nell'immediato e per la cassa integrazione, dovesse anche prolungarsi per qualche altra settimana, piuttosto per un futuro che non appare erose o meglio che non offre prospettive. Le commesse dello stabilimento di Sulmona al momento termineranno nel 2028 e l'assenza di investimenti su nuovi macchinari, così come sull'aggiornamento di quelli esistenti, lascia intuire che il gruppo non crede o comunque non sa quale ruolo affidare alla fabbrica sulmonese. Nell'autunno scorso si era confidato nell'acquisto della piattaforma large che avrebbe permesso cioè di diversificare la produzione compatibilmente anche con la transizione energetica e di non legarsi quasi ed esclusivamente come è attualmente alla produzione del Ducato. La piattaforma però non è stata più acquistata da Magneti Marelli e Sulmona, nei fatti unico stabilimento in Italia, non ha progetti futuri sulla carta. Per questo l'intervento della regione serviva per capire come poter intervenire e come evitare che la più grande fabbrica in Valle Peligna, una delle poche rimaste, possa evitare di chiudere i battenti e aggravare un quadro occupazionale già fortemente compromesso, considerando anche tutto l'indotto che Magneti Marelli muove. La disponibilità dell'azienda a incontrare la regione dopo il 27 ora attende una data di convocazione, nella speranza che per il 20 giugno, quando cioè ci sarà l'incontro nazionale del gruppo con i sindacati per capire novità e strategie, Sulmona abbia già in mano se non commesse investimenti almeno un'idea del suo futuro.